Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Big Vanilla Il mondo con tutti quanti gli Youtubers Oggi ho intenzione di fare una costruzione veramente spettacolare Però ho bisogno ovviamente dell'aiuto dei miei amici Infatti, ho radunato il team migliori tra costruttori e creatori di Redstone E infatti abbiamo qua, Marci! Ciao a tutti! Bella faccia! Mark! Ciao! E... Che è successo? Eh no, scusatemi, è che mi ero emozionato e esplodo tutto E abbiamo anche Loco, il migliore con la Redstone Oggi ragazzi creeremo una stanzina, una casetta per il mio tavolo degli incantesimi Quindi ragazzi, buona fortuna, ciao! Io torno a dormire Ma scusatemi, lui cosa fa in questo video? Ma dove la facciamo? Non ho capito Allora, vi do l'inizio un pochettino di indizi Allora, io avevo pensato di farla Ah, indizi? Sì, la faccio a noi? Sì, dovete farla voi Ah, ma scusatemi, ci stiamo proprio sfruttando Ragazzi, io non sono bravo così Ho creato questa specie di montagnola qua, visto? Perché la voglio fare con lo stesso stile della casa Hobbit che c'ho di là E poi, visto che Loco è bravissimo con la Redstone Volevo creare qualche specie di passaggio segreto con pulsanti e cose varie Per andare sottoterra e creare una stanzina Cioè, non una stanzina, un corridoio che mi porta a casa Ah, ok Semplicissimo, no? Mi piace, mi piace Beh, ci sta Roba di due secondi Marci sta già costruendo Marci sta già costruendo Vabbè, fa tutto Marci, raga, andiamo Andiamo a prenderci un caffè Ciao, ciao, ciao Io faccio solo l'ingresso Ciao Marci, buona fortuna Marci, fai Io intanto vado a fare il tunnel sotto casa Allora, io adesso vi do i materiali Perché devo prendere ovviamente l'Enchanting Table E devo prendere tutte le librerie Ah sì, sappi che sono legno Allora, come si faceva l'Enchanting Table? Ora me lo devo ricordare Ossidiana, libri Ossidiana, libri, diamanti Ok, libri Marci, a me questa non mi piace Voglio metterci questo Piazzo questo qui Bello Ok, buon lavoro ragazzi, buon lavoro Perfetto, quindi ragazzi, allora L'idea secondo me è più che valida Perché loro sono tutti dei bravissimi costruttori E l'idea anche di avere qualcuno che mi può creare Una stanza segreta Con la redstone mi fa impazzire Perché, beh, io sono in grado di fare soltanto questi tipi di stanza segrete Che non sono proprio molto segrete, ecco E da quel che so io Loco è bravissimo con la redstone Quindi farà una figata pazzesca Vediamo cosa stanno facendo Stanno lavorando i miei piccoli minions Sei un pagliaccio Ma, a chi? A me? No, ce l'avevo con bella faccia Ce l'avevo con bella faccia No, non possiamo No, glielo diciamo Ok, glielo diciamo Adesso che è tornato Io mi sono smutato e leggo Sei un pagliaccio No, non era assolutamente per te Rifacciamo la gag Rifacciamola tutta Ah, rifacciamo la gag Ok, rifacciamo Ah, ma quindi adesso Andiamo da bella faccia E rifare casi Andiamo, andiamo Evviva Ma, cosa siete? I sette nani Tornate subito qua Tornate qua Dobbiamo fare la casetta Allora, io ho preso già il tavolo Degli incantesimi Sapete più o meno dove poterlo piazzare Se vuoi piazzarlo Tu hai già interessato Al centro deve essere messo Ah, però non è Cominciamo a piazzare anche lì qua Eh, non so se mi potete dare Tutto questo potere Guarda, cioè, onestamente Aspetta, raga Io non sono bravo Dai, io faccio l'esterno Voi fate l'esterno Sì, bisogna Uno, due, tre Sì Se qua creiamo una casetta Possiamo fare anche un oblò A fine montagnetta Che mi permetterà Tipo una finestrella da qua Che mi permetterà Di guardare la barca Ok, va bene O la nave Il veliero Il galeone Bella faccia Non si sta esprimendo ragazzi Però Bella faccia Non sta facendo nulla Oh Vi faccio far tutto voi Allora Oh, ma fai qualcosa Non fai mai niente È il mio regalo del milione Fammi la casa Bella faccia Ah, ci siamo tolti Ti regalate il milione così Ci siamo tolti No, no, vabbè Se mi volete regalare qualcos'altro Possiamo rubare i tuoi materiali No, che è caso Dai, vi aiuto a scavare ragazzi Non sono bravo a costruire Ma scaviamo A scavare Non ci vuole un genio, guarda Allora Quindi tipo così Hai detto che i minatori Non saranno niente? Eh No Qua è pesante Aia Io l'ho sentito però, raga Ok, abbassiamo un velo E vado a terra a formare sopra Loco, tu hai tanta redstone? Dino tantissima Ok, perfetto Cosa hai intenzione di fare? Illustraci il tuo piano Eh, ma è segreto Non posso dirtelo Oh, ok Ma sai perché è segreto? Perché non lo sanno Perché non lo sanno Grande notte Ragazzi Mi deve venire l'inventivo Lasciate tantissimi mi piace Per questo team di costruttori E potrei riportarlo in un altro video Chissà Noi siamo una ditta Non siamo un team Ah, siete una ditta? Infatti dopo ti mandiamo la fatturina Ah, volete essere pagati? E c'è Ci mancherebbe altro Non lo siamo qua a fare Ah, non l'avevo capito No, vabbè Tranquilli, raga Potete anche smetterla Potete tornare a fare queste cose Tutto qua dovrà essere fatto in legno All'incirca, eh Ok, io sto arrivando con i blocchi Fattire bene Chi sarà quello che farà i decori? Eh, Marci Eh, lo sapevo Marci, dai Lo sapevo in una C'ho ben 35 librerie Potrei fare tutto quel che vuoi C'è anche le fiaccole fuori Io volevo fare questo Kendall, intanto Bello Però con la sabbia qui? Non lo so, eh No, no, togliamo tutto Ah, ok Questi blocchi si tolgono Bello Facciamo un cerchio normale Però che dici, tipo così Sì, sì, come preferisci Però guarda che figata Cioè, che vista Che vista mare Ma parlando di cose importanti Perché c'è latte? Quanto si deve pagare? Cioè, no, ragazzi Bella Faccia ha rotto un tubo Sto uscendo l'acqua Io allora mi faccio pagare Oh, sta fermo Che succede? Ah, era la tua idea? Scusi Dammi la terra, dammi la terra Tieni E lo è No, sembriamo veramente i settenani comunque Che siamo qua a costruire Dobbiamo creare la nostra canzoncina Umpa Lumba 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 Rumba Lumba 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 Forse era meglio Non proporla Io Bella Faccia comunque Secondo me è un ottimo produttore di musica Allora, queste crafting table davanti alla casa Secondo me è perfetta perché così Io riguarderei Può essere anche funzionale se ci pensi Adesso Adesso direi Bravo Marci Guarda come è carino Kendall che fa finta di fatto Vediamo l'entrata No, stavo facendo qualcosa Oh, ma scusate C'ho cinque costruttori potenti Quattro Costruttori potentissimi Che faccio io? Pensavo stesse per dire C'ho un milione di iscritti Ragazzi, c'ho un milione di iscritti Devo fare pure casa? Ah, guarda Teo Aspettate Oh mio Dio, ho un'idea Loco Sì Credi di poter creare Se qua mettiamo tutto il vetro Sì Credi di poter creare con dei pistoni Un pulsante Che lo fa sparire quando devo entrare E lo fa rimettere quando Quando sono dentro? Mi sono perso Mi può fare Dipende quando il vetro vuoi mettere È tutto Cioè tutto qua deve essere ricoperto tutto di vetro Stai attento Loco Perché questo Gli rendito si prende tutto Tutto il vetro mi sa che Aia Posso provarci Forse non si può fare In caso va bene Se ci vuoi provare ok Se c'è qualcosa che mi ha insegnato Bella faccia in tutti questi anni È che bisogna riempire tutto quanto Di trapdoor Sì Bella faccia non sai neanche cosa sono le trapdoor Trapdoor Le botole Bella faccia le botole Così capisci anche tu Poi guarda Anche dei pulsanti Pulsanti messi a caso Totalmente a caso in questo modo Vieni a vedere il pavimento Vieni a vedere il pavimento che ti ho fatto di qua Intanto anche Di dove? Di qua Oh bello Marzi hai del rosso da darmi? Ma ragazzi ma cosa ci sto a fare io in questa vanilla? Fanno tutto loro Sono i migliori costruttori Che cosa servo? Tanti cosa di Ascolta Qua devi per forza per chiamare i migliori costruttori al mondo Che forza roba Vi devo dare un nome Devo dare un nome alla vostra squadra Come vi chiamo? Backstreet costruttori Backstreet costruttori Oh ma chi è che non dorme da due anni? Phantom Allora Chi è che non dorme da due anni? Raga Ma da marci Ma da marci Raga se volete vi presto dei letti Se volete venire a dormire Ci penso io ragazzi a creare il sentiero Volevo mettere Vai 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 Io voglio fare un mercato Volevo mettere il rosso Così erano le mele Non ho più voglia di fare la libreria No Abbiamo finito praticamente Abbiamo finito Cioè bella faccia vuole distruggere il mio pensiero La mia idea Sì stai distruggendo Il progetto stai distruggendo Sì sì No qua non mi piace Via Sbaglio ho sentito un passaggio segreto Loco che stai facendo Tu non guardavo Ok ok non guardo nulla Non guardo nulla Cavolo è una sorpresa Ragazzi torno a casa E poi appena torno voglio vedere tutto completo Se mettiamo le librerie tipo quassù Guardate Che roba Vai 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 ci sta Mi piace una bella idea Guarda il sentiero va rifatto però Eh sì bisogna rifare un po' tutto dopo Ma chi ha messo il telaio veramente Ah no ci sta ci sta Avete per caso delle ossa? Sì Ne ho un po' perché mi sono avanzati Passa passa I bomblock o co? Io ho dei bomblock No stanno ormai No Marci non si chiamano bomblock Eh io ho 16 bomblock Block di ossa Eh vabbè dai Tanto si trasformano in bone meal no? Sì In? Oh cavolo forse un po' troppo In bone meal Voglio fare un negozio Ma non è questo Non mi piace Non mi piace No è bello invece mi piace No è bello invece mi piace Guardate tutti Dopo io No raga Vediamo il negozio di bella faccia Sto facendo una bancarella Quanto è bello l'elmetto in ferro Quanto è bello E' il metto di diamante Buongiorno Buongiorno Calmi 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 Che è successo? La titta ha finito Avete finito? Sì Vai Dov'è Loco? Loco Loco cosa hai fatto? Niente niente No io sono troppo curioso adesso Ragazzi non mi hanno fatto vedere nulla Per 20 minuti mi hanno detto Tieni gli occhi chiusi Resta in casa non guardare E io vedo già un sentiero bellissimo Venga 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 Di vines blu Oh mio dio Le piace? Oh mio dio Ma è bello È proprio come la volevo io Ma questa è di Loco comunque Ci piacciono queste cose No È la base di Loco È la base di Loco Ma come è di Loco? È la base di Loco È la base di Loco È la base di Loco Cosa vuoi? Via Ma no io mi ho assunto per Ma va via va Aspetta voglio vedere il passaggio segreto Però qual è? Allora vai su questo blocco Prima di questo pulsante Oh 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 Ma che bello è no raga Aspetta Che figata guarda E l'ha fatto in tipo 10 minuti Sì è vero È vero è vero Molto carino molto carino Aspetta ma questo quindi mi porta Poi giù per fare tipo un tunnel Esatto Dove sono i diamanti? No Quindi qua poi io lo nascondo Faccio un tunnel per andare a casa mia Sì è per tornare su Perché non puoi tornare su da lì No No ho fatto anche il sistema per tornare su Come faccio a tornare su? Vai giù E devi scendere giù Bravi ragazzi L'avete imprisonato Aspetta No fermi Sono perso Aspetta che scendo Ti faccio vedere Poi vai qui Sullo slime block e primo il pulsante E ti butto su No vabbè No raga ma questo è next level Ma che figata Ma loco ma neanche a me fai ste cose Ascolta la cosa Che ci fa uno zombie? Ah sì sì Questo è un tuo nuovo amico Tieni Sì ho già preparato tutto per te Fallo diventare normale E anche un cittadino per questa tua zona Ok sei contento? Cosa devo fare? Gli devo tirare la pozione Allora se devi buttare La pozione Si buttagliela addosso Occhio che con la Col fence non lo becchi No no L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Si sta trasformando Bella faccia Ti ricordavo molto molto più bello Però non importa No Raga ma ci deve pagare Sì sì Poi vi pagherò Ragazzi 10.000 euro Spero che questo video vi sia piaciuto Ho assunto i quattro costruttori migliori Di tutta la Big Vanilla Guardate Cosa è uscito fuori Che figata Non vedo l'ora di creare anche il passaggio segreto Qua sotto per arrivare a casa mia Ragazzi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi ai loro canali Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao Ciao